Ciao a tutti e bentornati. Oggi vediamo come utilizzare le schede operative del testo Le Checklist per l'Autonomia, un kit operativo che contiene un insieme di tavole illustrate che ci permettono di creare anche delle task analysis visive per scomporre i compiti complessi in vari step. Vediamo una scheda di osservazione e di valutazione tipo. In questo caso stiamo osservando le abilità di Valentina, 13 anni, nel lavarsi i denti. Per svolgere l'azione complessiva è necessario effettuare 20 passaggi in questo caso e vediamo che a fianco a ciascun passaggio, dall'1 al 20, possiamo segnare se l'abilità è non acquisita, emergente oppure acquisita. Vediamo che nella casellina emergente possiamo determinare la tipologia di aiuto più idoneo in questa situazione. Vediamo ad esempio che nel primo passaggio prendere lo spazzolino dall'armadietto del bagno la ragazza è completamente autonoma e riesce a farlo da sola, quindi l'abilità risulta acquisita. Nel secondo passaggio prendere il dentifricio dall'armadietto del bagno altrettanto, quindi l'abilità risulta acquisita. Il terzo passaggio invece risulta emergente, ovvero Valentina è in grado di svolgerlo ma ha bisogno di un aiuto. In questo caso che tipo di aiuto? Un piccolo aiuto fisico per riuscire a svitare il tappo e un suggerimento verbale su come fare. Vediamo che il quarto passaggio è acquisito, il quinto altrettanto. Il sesto invece bagnare lo spazzolino sotto l'acqua risulta emergente, quindi Valentina è in grado di farlo ma ha bisogno di un suggerimento visivo che glielo ricordi. Nel passaggio numero otto invece spazzolarsi i denti, Valentina ha bisogno di un aiuto verbale più un timer che quantifichi esattamente lo start e lo stop dell'attività e quindi la durata anche dello spazzolare i denti. Eventualmente un'attività di questo tipo può essere svolta anche in una sessione specifica di intervento attraverso un timer e quindi insegnare anche l'utilizzo di un timer che può essere utile o di un timer anche visivo eventualmente che può essere utile anche nello svolgimento di tante altre attività. Vediamo per esempio invece che gli ultimi tre passaggi risultano non acquisiti. Il punteggio totale se attribuiamo dunque un punteggio 2 a tutte le abilità acquisite, un punteggio 1 a tutte le abilità emergenti e un punteggio 0 a le abilità non acquisite, il punteggio totale in questo caso è 29 quindi i passaggi complessivi sono 20 dunque per svolgere in maniera totalmente autonoma l'attività dovremo avere un punteggio di 40 quindi sempre il doppio del numero dei passaggi di cui è composta una specifica attività. Vediamo in questo caso nelle note che abbiamo segnato appunto nel passaggio numero 8 l'utilizzo del timer. Vediamo a distanza di un mese una nuova valutazione per capire dopo esserci quindi quasi quotidianamente esercitati nell'apprendimento di un'abilità specifica di questo tipo dopo un mese che cosa è cambiato e possiamo vedere che alcune delle abilità che prima risultavano emergenti sono state acquisite e quindi Valentina è in grado di svolgerla in totale autonomia e alcuni passaggi ad esempio come gli ultimi tre che risultavano totalmente non acquisiti invece risultano emergenti o addirittura uno acquisito e dunque il nostro intervento educativo specifico nell'arco di un mese ha permesso l'acquisizione di numerose abilità e ha prodotto dei risultati tangibili e concreti nell'aiutare la persona ad acquisire appunto maggiore autonomia. Vediamo che possiamo dunque utilizzare la scheda riassuntiva in questo caso abbiamo riportato i dati soltanto di due valutazioni quindi dalla valutazione iniziale e di una successiva valutazione a distanza di un mese vediamo dunque visivamente quanto è migliorata la capacità di Valentina di svolgere l'azione complessiva vediamo che nella prima valutazione avevamo un punteggio di 29 mentre nella seconda valutazione dunque dopo un mese abbiamo già un punteggio di 35 il nostro intervento dunque è stato utile e i risultati possono essere immediatamente anche visibili attraverso un istogramma di questo tipo vediamo ora che un'attività come il lavare i denti che prevede 20 passaggi può essere scomposta e quindi visivamente attraverso delle immagini in questo caso sono immagini appunto che fanno parte del kit operativo già pronte, numerate in modo tale anche da poter essere ritrovate in maniera molto veloce e quindi in questo caso i passaggi sono 20 e avremo 20 tesserine vediamo dunque come è possibile scomporre il compito per alcuni ragazzi sarà più utile utilizzare una modalità di disposizione delle immagini da sinistra verso destra per altri invece potrebbe essere più utile dall'alto verso il basso vediamo dunque i diversi passaggi dell'azione globale possiamo chiaramente personalizzare anche il numero dei passaggi non con tutti i ragazzi o le ragazze utilizzeremo tutti gli eventi, le immagini che compongono quest'azione in alcuni casi a seconda delle abitudini e delle abilità dei ragazzi potremmo semplificare ad esempio con i passaggi principali dell'azione una tasca analisi svisiva che contenga soltanto 10 di questi passaggi o a seconda delle necessità specifiche utilizzare soltanto alcune immagini per la creazione di supporti visivi specifici per l'apprendimento di abilità di questo tipo o per la creazione di eventuali storie sociali per l'apprendimento appunto di abilità sociali di autonomia e comportamentali grazie a tutti per l'attenzione e buona serata a tutti per l'attenzione e buona serata a tutti per l'attenzione e buona serata